Così parlava Dudayev, leader ceceno, separatista, generale dell'aviazione e poi capo di stato, assassinato dall'aviazione russa nel 1996. L'Ucraina alla fine affronterà la Russia a condizioni inconciliabili, non in modo pacifico. Finché esisterà il fanatismo russo, non rinunceranno mai alle loro ambizioni. Vogliono nascondersi dietro la storia slava, come hanno fatto in passato, presumibilmente per unire i paesi slavi. Prendere l'Ucraina, la Bielorussia, per rafforzarsi e poi andare avanti. Nessuno vuole essere in alleanza militare con la Russia ora, non solo militare, ma anche nelle relazioni economiche, politiche e persino commerciali. Perché ormai il mondo ha imparato a conoscerli, a fondo. E come il mondo ha combattuto il fascismo, ora sta combattendo contro il fanatismo russo. E questa guerra si intensificherà. E non ha senso per i russi pensare di poter spaventare il mondo con il loro esercito, i criminali e le armi nucleari. Perché tutti sono già stati spaventati. Tutti sono già passati attraverso quell'inferno del loro fanatismo. E i russi saranno rimessi in riga, con la civiltà umana, o smetteranno di esistere come nazione, oppure dovranno mettersi in riga con la comunità mondiale. I russi sono stati esposti di fronte al mondo intero in questo momento. E non solo esteriormente, ma anche dal loro lato più oscuro. Il mondo intero ha visto chi sono i russi e il loro fanatismo. E quanto sia pericoloso per l'umanità. Stanno uccidendo civili che non hanno alcuna protezione. Stanno uccidendo da una distanza inaccessibile, dall'aria e con l'artiglieria. Poi arrivano in quella città e in quel posto e iniziano a rapire e saccheggiare. Prendendo tutto, lasciando solo macerie. La loro ideologia è più spaventosa del fascismo, del nazismo, del razzismo. più spaventosa di tutte le ideologie misantropiche. L'unica nazione al mondo che non crede in niente, che è senza anima, immorale e indietro rispetto all'umanità. Senza speranza. La Cecenia è solo il pretesto, ma in realtà questa è l'essenza della nazione russa. un'azione che è malata di una ideologia disumana. Tutto è distrutto in Cecenia, a partire dagli asili fino alle università, dalle fabbriche più piccole a quelle di macchinari pesanti. E tutto è andato. Tutto è distrutto. Ma non è questo il problema principale. La cosa principale è che hanno distrutto la fede nell'umanità. Nel popolo russo in particolare, nella sua leadership, sono capaci di realizzare la quantità di male che hanno commesso. Commettono e commetteranno. Se i russi non arriveranno a capire, almeno per il loro bene, per salvarsi dalla tragedia della guerra, allora la guerra potrebbe arrivare nelle loro case. E arriverà. E le città russe bruceranno, se i russi non arriveranno a capire. Si stanno portando da soli alla loro catastrofe, con le loro stesse mani, incoraggiando la criminalità dei loro leader politici. Oggi la Russia è una cartagine che deve essere distrutta per diventare uno Stato governato dalla democrazia e nella legalità. E anche se non esiste una democrazia, nemmeno lontanamente, almeno dovrebbero rispettare i diritti e le leggi. Perché, se non è così, allora sarebbe meglio che scomparisse dalla mappa e dalla storia. Non c'è via di mezzo, nessun compromesso. Noi, io, tutti, i ceceni, stiamo guardando tutto il male che stanno commettendo. Tutti quei russi, quei criminali, quei predoni, quegli assassini. Li guardiamo con quello sguardo disgustato e sgradevole. E nient'altro.